Ragazzi, buongiorno! Questa settimana, dalla 5 all'11 ottobre, ci ritroviamo con l'appeso. È una carta scomoda perché, perché, che se ne dica, può invitarti anche ad avere un cambio di rotta, ad avviare un cambio di rotta che molto spesso è nemico delle persone che invece si siedono molto. Mi spiego meglio. Qualora questa settimana fossi lanciato in una decisione, in un processo decisionale, quindi tutto concorre a spingerti a prendere una decisione su un percorso, una scuola, un hobby, un'attività lavorativa, beh, forse questo appeso ti dice, ok, fermati un attimo, cioè non sprecare il tuo tempo a decidere, ma cerca di utilizzare il tuo tempo per capire come inquadrare la situazione da un'altra prospettiva e quindi automaticamente dare un senso diverso a quello che vedi, a quello che pensi, a quello che senti. C'è qualcosa che ti sfugge, qualcosa che non stai vedendo, c'è quel particolare che puoi vedere da un altro punto di vista? Ecco, indipendentemente da tutto, puoi cogliere delle cose che non avevi colto solo se ti dai il tempo e lo spazio per inquadrarle diversamente. Di contro, però, esiste un esercito di persone che non fa niente, cioè sono sedute da settimane, mesi, anni, e si coccolano in questo blocco. Se hanno un problema è colpa del problema, se non c'è il lavoro è non c'è il lavoro e quello è il blocco. In realtà, se questa è la tua condizione, quindi questa situazione di immobilità piuttosto importante, allora devi iniziare a valutare quanto è responsabilità del mondo, per mondo ovviamente si intende ciò che è esterno a te, e quanto invece è responsabilità tua. Forse, pensando, meditando e riflettendo, potresti notare che esiste un concorso di colpa. Sì, magari sei sdegnato, disilluso, oppure semplicemente non ti va più, perché ci hai provato ma non ti va più. Però ricordati sempre che nel momento in cui decidi di tirare i remi in barca, hai già perso, e quindi il mondo ti restituisce quel blocco. Ad ogni modo, indipendentemente dalla fazione nella quale militi, mi piace incentrare il lavoro di questa settimana su un processo attivo, e quindi cosa mi blocca nel mio progetto, deve essere sempre una cosa tua, non esterna, quando dico cosa mi blocca, qual è la mia caratteristica, l'idea personale, intimo che mi blocca, nel mio progetto, nel mandare avanti il mio progetto. Su questa domanda lavoreremo domani. Buon lunedì, buon inizio settimana, dai, dai, dai!